Un'azienda produttrice di bevande riceve i box a gabbia che, a seconda della successiva produzione delle bottiglie, contengono tra le 5.000 e le 20.000 preforme. Le preforme vengono prima pulite e successivamente scaldate. A una temperatura di 100 gradi, le preforme diventano perfettamente plasmabili. Nelle forme di soffiatura, le preforme vengono soffiate creando bottiglie. Ecco come appare l'interno della forma di soffiatura. Le preforme vengono introdotte nella forma di soffiatura, quindi segue l'ugello dell'aria compressa. Grazie a un forte getto d'aria della durata di pochi millisecondi, il materiale si espande fino alla parete della forma di soffiatura. Segue la fase di raffreddamento ed ecco pronte le nuove bottiglie per bevande in PET. In un processo completamente automatico, le bottiglie in PET vengono riempite e subito tappate. Dopo il riempimento, vengono controllate l'altezza di riempimento e l'ermeticità di ogni bottiglia. Alla fine, le bottiglie vengono etichettate e imballate. In questo modo, utilizzando bottiglie in PET usate, vengono ripetutamente prodotte nuove bottiglie per bevande in PET. E ancora nuove bottiglie per bevande in PET. E ancora nuove bottiglie per bevande in PET.